Come ti senti? Come ti senti? Mi sento bene, perché non l'avevo detto, ma sto annunciando il mio ritiro delle piste. Credo che un giorno è finito e non voglio continuare a lanciare. Empece con un bronze, che poi ho convinto una plata nel 2007. Questo è il mio quarto mondiale, con una medallita di bronze me voy. E molto contenta, perché il lavoro che ho realizzato questo anno è stato buono. E non voglio nessuna medalla. Quindi, grazie a tutti gli spectatori che mi hanno seguito. E io sono contenta e penso che io anche.